Questa è la Rebellator IO24, con due canali. In questo momento qui c'è collegato un microfono, che è quello dentro questa saletta. Infatti lo sto usando come preamplificatore per quando faccio altre cose. E questo invece viene dalla sala microfono. E quindi quello che farò io sarà provarlo e raccontarti come funziona. Ma questa scheda, che costa un cazzo, ha delle cose che dovrebbero essere dentro a questa scheda che costa un casino di soldi. Ma non ce le ha questa, e invece questa ce le ha. D'altra parte questa non ha delle altre cose che questa ha, però è un altro paio di maniche, sono dei discorsi strani. Comunque scenario di guerra, una scheda audio che possa fare da Apollo dei poveri. Quello che vedrai in questo video è la mia esperienza di circa un mese e mezzo da quando ho preso la scheda. L'ho comprata usata per 80 euro, c'era solo la scheda, non c'era niente dentro, neanche un cavetto, neanche niente. Però mi hanno solo buttato lì la scheda, c'era una warehouse, come cavolo si chiama. E l'ho usata per tutto questo tempo come scheda secondaria, ma in realtà ho sostituito alcune cose che facevo con la Apollo usando questa. Per esempio le connessioni con i clienti, quando dobbiamo parlare di un progetto, allora le persone ti raccontano, spiegano, ci sono più persone collegate. Oppure quando ci sono gli amici e si chiacchiera, ho sempre usato questa, sempre questa. E ho imparato a usare il software. Software che per un mese e mezzo non mi ha dato nessun problema. Andava benissimo, sono riuscito a gestirla alla grande, anche con microfoni scadenti, dall'altra parte con un Sennheiser di quelli vecchi, lo vedrai. E oggi, in modo particolare, è stata una giornata intensa, perché l'ho usata tutto il giorno. Cioè io stamattina ho detto, oggi, che è una giornata tranquilla, mi dedico a questa scheda e faccio il video. E sono arrivati alle sette e mezza gli operai davanti casa a stendere della fibra ottica. Quindi stanno scavando il cemento. E quello che si sente da me, che sono al Pianoterra, in questa stradina di campagna, il Pianoterra vibrava tutto. Il pavimento, qui dentro, non si sente niente, non sente mai volare una mosca. E dentro si sentiva volare una mosca. E quindi l'ho messa alla prova, perché ha un expander che mi interessa, dato che può eliminare tutta una serie di rumori, che spariscono completamente. Ovviamente il leggero fruscio del microfono. A volte hai dei microfoni che hanno un bellissimo suono, però hanno un rumore, un noise abbastanza elevato. In piene estate hai le ventoline che fanno girare l'aria, anche se stai qua dentro, c'è caldo. Aumenti la forza delle ventole, ma inevitabilmente si sente anche l'aria girare. Quindi con questo gate allontani questi rumori, senza tagliare i fiati e tutto il resto. Bene, oggi è stata una giornata pesante per questa scheda. Tant'è che il software mi ha un po', come dire, ha glitchato in qualche occasione. Non so se l'ha fatto perché sono su un Mac piuttosto recente e quindi si aspetta un aggiornamento, oppure perché era fallata la scheda. Non te lo so dire, ma la scheda ha funzionato benissimo per un mese e mezzo senza problemi. Solo oggi mi ha dato questi glitch software. Quindi quelli che vedrai nel video può darsi che non siano la norma. Ma la scheda, devo dire, funziona veramente bene. E adesso te la faccio vedere. La scheda, chiaro, non ce l'ho. Cioè, la scheda ce l'ho, ma quell'altra roba che tu avevi pensato, vecchio porco. Sì, ma è fantastico! Ciao! Allora, questa scheda audio che stai vedendo qui, questa qui, ero molto curioso di provarla e quindi l'ho comprata usata. E avevo un leggero timore perché l'ho trovata su quelle offerte che ci sono in giro in cui ti dicono, eh, beh, c'è praticamente, manca tutto, tranne la scheda. Quindi non c'è il cavo, non ci sono i piedini, non ci sono i manuali e la scatola è un po' rovinata. Però la scheda funziona ed è nuova. Ma beh, l'ho presa. 80 euro, butta via, consegna compresa. L'ho presa, però avevo il dubbio, un leggero dubbio, che fosse una delle prime in assoluto che sono uscite. Perché devi sapere che questa scheda ha avuto un avvio tormentato. Cioè, la Presonus ha fatto uscire la scheda con un errore di progettazione sul cavo delle cuffie, sull'uscita cuffie, che questa scheda ha di dietro. In tecchio della scheda, qui si vede bene, c'è l'uscita cuffie e l'uscita main, che sono le due casse. Poi c'è anche il midi e l'alimentazione. Nell'uscita delle cuffie c'era un ronzio in queste schede, nelle prime che sono uscite. Quindi Presonus ha dovuto prendere queste schede, ritirarle, sistemarle, oppure le ha buttate via, e poi ne ha fatte delle nuove senza più quel problema. Questa scheda si potrebbe definire l'Apollo dei poveri, con l'H finale. Perché la Revelator.io ha, oltre ad essere di una forma un po' particolare, ha anche delle caratteristiche tecniche interessanti per chi fa streaming, ma anche per chi fa voiceover. Cioè, chi ha un piccolo home studio e vende solo la sua voce ogni tanto deve fare delle connessioni in diretta con i suoi clienti, per esempio, per fare le cosiddette live, i link. Cioè, tu ti connetti con il tuo cliente, gli fai sentire quello che stai facendo, lui dice sì, mi piace, non mi piace. Fammi risentire quel pezzo, che è sempre una cosa difficile, no? Far sentire quello che hai appena registrato con le schede audio normali, perché non hanno il loopback. Adesso finalmente stanno uscendo una serie di schede che ce l'hanno. Ma questa ha qualcosa di più, ha anche i DSP all'interno. Finisco di farti vedere, poi ti spiego come funziona. La forma è un po' particolare. La vedi qua sotto? Io la sto riprendendo qui, qui, questa qui. È tutta di metallo, proprio, però è fatta a zeppa. Non capisco il senso di questa costruzione, perché è fatta a zeppa. Cioè, se la metti sotto qualcosa si ritrova un po' sbilenca, quindi non puoi neanche usarla, non so, gli metto sopra la cassa, faccio per dire. Eh no, è sbilenca. Questa si può usare con un camion da cava, che è parcheggiato in salita, se smolla il freno, quello va giù, e quindi dietro gli metti una zeppa, la metti sotto alla ruota, il camion sta fermo, perché dura, tosta, veramente. Poi la tiri via, vai in cabina e fai i registri. Perché ha l'USB-C, quindi in teoria ogni sistema che consente l'alimentazione attraverso l'USB-C, ormai tutte le cose più moderne ce l'hanno, qualunque smartphone, iPad, roba di questo genere, che abbia l'USB-C consente di alimentare questa scheda, che poi ti offre in cambio tutta una serie di servizietti, niente male, i servizietti, ti fa dei servizietti. Questa scheda costa, attualmente nuova, 138 euro, dovrebbe essere già, anzi è già quella con l'hardware in buone condizioni, perché ormai è uscita da un po' di tempo. Dunque, strumenti musicali ce l'ha così, ce l'ha così anche Toman, perché quando strumenti musicali ha un prezzo, Toman fa la stessa cosa e viceversa, si stanno facendo la guerra, è la famosa guerra Italia-Germania che si sta combattendo. Della serie Revelator ti devo comunicare che ce n'è anche un'altra, ci sono una serie di prodotti che si chiamano Revelator e che hanno tutte più o meno le stesse caratteristiche dal punto di vista software e hardware, cioè offrono un DSP. La IO44, a dispetto del nome che sembrerebbe più potente, perché è 44 contro 24, invece è più piccolina, ma proprio molto più piccolina. È una schedina più piccola, c'è meno roba. Questa invece si chiama Presono Studio che non ho capito fino a che punto utilizza le stesse caratteristiche di ingresso, però costa già 400 euro, quindi stiamo già parlando di un altro tipo di scheda. Ci sono una serie di schede che possono essere controllate da un software molto simile, ma non so se hanno le stesse caratteristiche. A me interessa la serie Revelator perché comprende questa scheda audio, la 44, e anche un microfono, che è un microfono USB all'interno dei DSP. Se ti devo dire la verità, che è questo qua, guarda, lo prendiamo da strumenti musicali, stiamo in Italia. Questa qui, vedi questo microfono? Non lo so sinceramente come funzioni, quali siano, perché i microfoni sono sempre una bega, cioè se sbagli il microfono, sbagli il suono in ingresso. Con la scheda audio di questi tempi è un po' più difficile, ma microfono, insomma... E vabbè, però per fare conferenze zoom e roba di questo genere va più che bene. Fra l'altro funziona fino a 96 kHz, 94 bit all'USB-C, ti consente di usare un'interfaccia audio, anche in questo caso, con sei ingressi e sei uscite, quindi di fatto, dal punto di vista tecnico, ti offre le stesse cose che ti offre la IO24 e presumibilmente anche la IO44, che solo fisicamente è diversa, nel senso che ha solo l'uscita cuffie, cioè l'uscita casse, poi davanti anche l'uscita cuffie e l'ingresso microfonico, è una line-in, quindi al posto del connettore microfonico il secondo canale è un line-in, un ingresso di linea, che in realtà ce l'hai anche qui, perché questo qui, se tu togli il Canon, è alimentato in questo momento all'altro microfono, fammi vedere, no, quindi posso toglierlo, se togli il Canon, puoi vedere, te lo faccio vedere meglio, questa qui, ok, che c'è un Canon Combo, quindi questo lo puoi usare effettivamente come un line-in, su cui ci saranno anche gli effetti DSP. Ma vacca boia, guarda che roba, guarda, la vedi lì? Guarda, vedi che c'è una cosa che si muove? Si muove perché questo microfono qua, perché io l'ho messa qui, l'ho collegato, guarda, l'ho collegato con un cavo Thunderbolt alla scheda, sull'iPad, e l'iPad sta funzionando, cioè sta prendendo il suono da lì, gli ho messo il track 1 e il track 2, io qui sono con il microfono numero 1, tra le altre cose qui funzionano i preset, quindi posso scegliere di cambiare i preset e gestire il canale, sono sul canale numero 1, posso aumentare, diminuire il volume, però ho, beh, non ho il controllo della scheda, nel senso del controllo del mixer e tutto il resto, però io posso tranquillamente, per cavolo sei, facciamolo così, se io vado a registrare, qui vai, il no track sun up, la danza è certo, eccolo qua, guarda, io sto ricordando, I am recording on the iPad, ma che figation, allora quello che mi interessa di questa scheda, quello per cui ho voluto prenderla, per avere una sorta di backup, o almeno per provarla, poi non so se effettivamente sarà all'altezza, ma lo è in realtà, però non è una scheda per tutti, è una scheda in cui devi saperci un po' mettere le mani, non tanto in questa scheda, ma proprio avere un po' di abilità nel gestire i vari software, e l'ho definita la pollo dei poveri, perché effettivamente con un 130 euro ti può dare, se fai solo voice over e dirette, ti dà già una serie di possibilità, che con una pollo, per esempio, non avresti senza spendere meno di 500 euro, perché anche la più piccola delle Apollo effettivamente ha un solo DSP e poi ingressi e uscite esattamente come questa, però costa un bel po' di più, tanto di più, oltre al fatto di essere molto più impegnativa a livello software, e oltre al fatto di non avere il loopback, perché le Apollo non ce l'hanno il loopback, te lo devi inventare comprandoti software aggiuntivi, schede audio virtuali, eccetera, e invece questa ti offre già tutta quella roba. Lo fa con i limiti di una scheda di quel prezzo, perché per esempio, se guardi questa schermata qui davanti, ti accorgi subito che la scheda audio di cui stiamo parlando, arriva al massimo a 48 kHz 24 bit, che è lo standard, se dobbiamo dirla tutta, è lo standard, e le sue schede audio virtuali, di conseguenza, si comportano seguendo il clock della scheda principale. Sono due schede audio virtuali che si auto-installano a seconda di come tu fai il settaggio dello Universal Control. Lo Universal Control è l'unico software che tu devi scaricare dalla Presonus per far funzionare questa scheda. Puoi anche usarla senza, perché appena la attacchi, quella è già riconosciuta dai sistemi operativi più moderni, ma ti mancherebbe il mixer per gestirla. Quindi o usi un mixer separato, e ce ne sono in giro di mixer separati, tipo Audio Desk, per dire che però non sarebbe totalmente integrato e non potrebbe gestire completamente gli effetti in DSP in tempo reale che questa scheda offre. Universal Control ti consente di controllare una serie di schede audio, fra cui la Revelator IO24. Che cosa fa? Ti dà il device in modalità multi o single. A questo punto io farò una cosa, cioè devo aprire necessariamente un altro canale che si chiama Rev1, che corrisponde a Revelator ingresso IO, che è una cosa di questo genere. La scheda audio hardware, proprio lei basta secca esattamente così come sono tutte le schede audio, dove se tu fai una registrazione stereo su quella scheda e metti un microfono, sentirai solamente un canale. Questo è l'ingresso classico di tutte le schede audio che ti fanno sentire il left e il right sui canali 1 e 2, ma non gestisce altri streaming in loopback. Quindi se io adesso la metto come device in single, cambiano le cose anche per te che stai ascoltando. Eccolo, ce l'abbiamo. Ok, a questo punto io sono collegato. Mi senti solo su un canale. Lo so perché è così. Mi senti solo su un canale perché io sto... Chiudi questa roba. Don't save. Sto registrando praticamente su un'unica scheda audio che però ha sei canali, ma i dispositivi normalmente non riconoscono questa roba. Ora la vado a cercare. Dov'è? Revelator, 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 sei da qual... Eccoti qua in fondo. Dunque, la prima cosa che noti guardando i dispositivi audio nel Mac, per esempio, è che oltre a 48 kHz arriva fino a 96 kHz 24 bit e ti offre sei canali tutti integrati in un'unica scheda. Esattamente come l'Apollo. Quando tu inserisci l'Apollo hai i suoi sei canali tutti integrati in un'unica scheda. Ma non li puoi dividere se non usi software esterni che vanno a prendere singoli canali. Quindi, quando ti colleghi, per esempio, direttamente usando quella scheda devi usare il suo software interno che non è esattamente comodo da usare per riuscire a fare le operazioni di routing audio. A questo punto, io, se apro il mixer, posso gestire esattamente i canali come prima, ma non ho più, oltre al playback virtual A e virtual B, il suo lookback interno, non ho le schede audio esterne aggiuntive. Cioè, non posso dire a un software di andare a prendermi come scheda audio la scheda audio A o la scheda audio B, perché non ci sono, se voglio lavorare, oltre i 48 kHz. Ma io lavorerò a 48 kHz e quindi la preferisco, in questo caso, in single. Ok. Allora, siamo in modalità single. Siamo di nuovo in multi. Perfetto. Siamo di nuovo in multi. Tornando in multi, la scheda audio si è ricollegata con il revelator A o 24 impostata come uscita principale. Poi c'è il mix A che io posso impostare come ingresso audio e lo stream B che posso usare singolarmente se per caso mi sposto e voglio usare altre cose. Allora, dovremmo parlare anche dei limiti di questa scheda, perché se è uscita con dei piccoli problemi, i piccoli problemi diciamo che in parte se li porta ancora dietro con il software, che però il software è aggiornabile, mentre l'hardware prima poteva essere effettivamente un grosso problema, perché era un difetto hardware quello che aveva, a livello software faranno degli aggiornamenti. Ma se fai come faccio io che mi sposto qua sopra, vado a cercare i setup, faccio dei setup particolari, ci provo, cambio, salvo, brigo, eccetera, ogni tanto si rincoglionisce, dice chi sono io? Non mi riconosco! E non ce la fa più a reggere. Allora, in questo momento siamo sul microfono numero 1 e posso scegliere su questo microfono una serie di setup che posso anche salvare separatamente, cioè se io decido per esempio di modificare, di farmi un setup tutto mio, clicco su Show Fat Channel, Fat Channel sono i canali grassi, cioè grassi perché trattati appunto con l'i-pass filter, il gate, il compressor, l'equalizzatore, il limiter e in altri casi anche con il voice che sono ulteriori effetti che il DSP può gestire in tempo reale, cioè sono effetti di riverbero, delay, ce ne sono una serie, double detuner, vocoder, ring modulator, filter, sono cose carine per giocare online e modificarsi un po' la voce e fare queste cose. Cosa che può fare su un canale alla volta, cioè i voice effects che sono solo quelli lì, te li fa vedere o sul canale 1 o sul canale numero 2, su uno o sull'altro, mentre il Fat Channel che sono il controllo della dinamica, quelli li puoi gestire tranquillamente su tutti i due canali e farli uscire, farli uscire verso chi ti sta ascoltando, in questo caso sei tu che mi stai ascoltando e mi ascolti dallo Stream Mix A. Ti faccio rivedere qui Stream Mix B, Stream Mix A, Revelator I.O. Che qui corrispondono a Playback, Revelator I.O., Virtual A, Stream Mix A, Virtual B, Stream Mix B. Con la differenza che sono sia ingressi che uscite queste schede. Naturalmente io qui nel mixer ce le ho come ingressi che poi posso fare uscire dove mi pare. Vale a dire, se io ricevo sullo Stream B l'ingresso di un suono, lo posso far uscire su tutte e tre le parti del mio mixer che corrispondono a Main, l'uscita principale delle casse, Stream Mix A, uno Streaming in Loop Back chiamato Mix A e l'altro Mix B. Io ricevo un suono da Mix B e lo voglio far uscire da Mix A o Main, io basta che apro il canale Virtual B e il suono mi arriva da lì. qual è il vantaggio di avere questa cosa aggiuntiva che puoi fare il Mix Minus il celeberrimo Mix Minus aspetta un attimo che voglio fare una cosa qui c'è un gate veramente molto alto che vorrei togliere ok allora vi faccio vedere tutta la roba che c'è qua dentro eccetto gli effetti di cui parliamo dopo allora in HPF noi abbiamo la parte sopra serve per regolare andare a gestire direttamente gli effetti è in tempo reale un controllo del High Pass cioè ti passa sopra a tutte le frequenze basse fino ai 1000 Hz quindi 1 kHz e quindi puoi togliere per esempio i vari rumori di fondo che ci possono essere tipo non so camion che passano sull'autostrada e ti fanno vibrare la casa e quelli sugli 80 Hz di solito arrivano e poi comunque la voce sotto agli 80 Hz si ok sarà anche più calda però voglio dire su certi in certi in certi casi diventa anche inutile e dannoso perché porta dentro il cosiddetto sporco rumore di fondo fango si potrebbe chiamare questo è l'i-pass filter questo è il gate gate expander che ti consente anche in questo caso se mi metto ad ascoltare il key filter io gli posso dire su quali frequenze deve lavorare il gate cioè non ti aprire fino a che non senti 400 480 Hz e hai i compressori i compressori i compressori ce ne sono i tre tipi anche di gate ce n'è uno solo i compressori ce ne sono i tre tipi c'è lo standard che è il classico compressore digitale c'è il tube che è il classico LA2A nella loro versione che può lavorare sia da limiter che da compressore e poi abbiamo un FET che è l'1176 che può arrivare a 20 a 1 di compressione e che ha già una serie di preset che trovi all'interno dopo vi faccio vedere che possono essere utilizzati direttamente nella maggior parte dei casi per le cose che usa la gente comunemente la gente comunemente vediamo un attimo io posso spostare prendiamo un setup mic 1 questo qua che era quello che avevo prima sì ok va bene low vocal broadcast vedi qua ci sono i preset del gate per esempio moderato alto già pronti compressor quelli che ti facevo vedere prima cambia anche il tipo di compressore a seconda di quello che vuoi usare se usi un low per esempio un moderate cioè compressione moderata alta compressione desser che lavori praticamente come compressore del desser quindi viene spostato il filtro sulle frequenze sui 6 kHz se non sbaglio lo possiamo andare a vedere magari ce lo dice compressore e guarda 7 kHz e 6 key filter spostato sui 7 kHz e 6 se io se vedi che qua entra in funzione se te lo metto nell'altra schermata che si vede meglio se io se io lo faccio entrare in funzione se io quindi se non hai un desser puoi usare tranquillamente questa roba qua i desser effetti qua dentro non c'è ma il compressore può essere usato per fare quello e dato che poi alla fine hai anche un limiter quindi il controllo della dinamica su questo macchinino c'è posso andare su vocal che mi cambia ulteriormente l'uso del compressore e mi utilizza senti che si è abbassato perché sta comprimendo e potrei aumentare il gain in uscita per esempio lo alzo per compensare rispetto a prima e c'è un 1176 che sta lavorando con una compressione abbastanza spinta questo è perfetto per esempio per una radio e poi che cos'ha l'equalizzatore che consente di utilizzare una serie di equalizzatori ad esempio se vai su vintage nell'equalizzatore avrai guarda questo equalizzatore che è un NIV questo qui è un NIV è la copia di un NIV però c'è anche il passive che è il celebre Pultec non viene il nome Pultec il celebre Pultec che ritroverai già applicati all'interno dei vari plug-in gestibili da qui vintage eccetera eccetera attivi o disattivi questa roba poi c'è il limiter che è l'ultima parte del di questo controllo della dinamica che puoi definire non so qui è definito a meno 1,50 quando arriva a meno 1,50 quello taglia comprime è un limiter di solito sono dei 10 20 a 1 101 non so mi sembra abbastanza morbido e ho per esempio un compressore che è il FED compressor che è velocissimo questo qua già fa tutto per i fatti suoi lavora già praticamente è un limiter nasce come limiter anche in questo hai il key listen quindi volendo puoi utilizzare anche questo come da essere un po' più incisivo se utilizzi per esempio la chiave di ascolto sui 6-7 kHz a seconda voce femminile o voce maschile intorno ai 6 kHz voce femminile 7 kHz 8 quella maschile e questo lavorerà solo vedi che non si sta già muovendo lavorerà solo come de-esser se io dovessi arrivare su quelle frequenze se la abbasso vedrai che comincerà a muoversi un pochettino di più a seconda di dove mi avvicino in questo momento io sto lavorando su frequenze un po' più vabbè dico di lavorare dai 100 Hz in su 128 Hz in su vabbè è una così tanto per fare dei giochini naturalmente questi tipi di preset li potresti salvare io ne ho salvati una serie che possono essere a loro volta salvati all'interno del local preset cioè per intenderci ha una piccola memoria al suo interno e questa non è una mercedes è una panda cioè ti si stacca una ruota una volta ogni tanto può succedere magari non la panda ma la 600 si con cui rischi di finire nel fosso nel senso che non è esattamente ancora stabilissima nonostante sia fuori a due anni però è già in grado di fare un sacco di roba come senti sto facendo secondo me è un ottimo suono quello che ti sto dando considerando che sto usando un vecchio Sennheiser un dinamico e tutto il resto questa roba la puoi salvare nel local preset significa che se anche stacchi la scheda e te la riporti su un altro computer e ti sei salvato quel preset dentro al local preset lo puoi riportare dentro alle memorie all'interno del tuo computer quando apri e quindi ti ritrovi il tuo preset attivo ne può salvare credo 6 o 7 non un numero infinito se io per esempio qui faccio questo preset lo chiamo Pippo Pippo chiamiamo Pippo questo preset da un attimo nei dettagli così vede meglio e gli dico storamelo nel 4 e io dovrei avere Pippo nel 4 infatti Pippo si trova nel 4 a questo punto dico Pippo senti me lo sposti di là guarda che c'è Pippo qua se io dovessi per qualche ragione delete togliere Pippo da qua perché sono su un altro computer vado nella memoria locale e lo faccio ritornare e lui mi ritorna quindi c'è questa specie di come se fosse una chiavetta USB su cui hai salvato i tuoi effetti quindi è possibile allocare diciamo gli effetti poi c'è un'ulteriore cosa che questa volta riguarda te lo faccio vedere fisicamente questi pulsanti qua sotto che si chiamano preset qua e qua questi due questi due pulsanti funzionano da qui sono praticamente la corrispondenza di questi due pulsantini qui sopra e tu per esempio tocchi il pulsante numero uno e poi gli dici che preset voglio qui sopra che ne so fammi vedere che preset abbiamo voglio il 2 setup ok si chiama gli metto questo e compare qua sopra setup ok hai sentito che il suono è cambiato immediatamente perfetto setup ok adesso è questo clicco su flat cosa voglio metterci fammi vedere ci mettiamo mic 1 che si trova nell'1 allora io sposto nel 1 qua ci viene il setup che avevo fatto prima mic 1 ok e a questo punto se io non voglio agire sul software ma voglio cambiare il preset per qualche ragione non faccio altro che fare così lo faccio vedere fisicamente però te lo devo far vedere da qui ok allora qui ho il ditone e qui sopra vedrai muoversi questi due pulsanti ditone ok questo è il pulsante numero uno questo è il pulsante numero due numero uno numero due per settarli devi andare necessariamente qui cliccarlo e poi spostare e scegliere il preset che ti pare a quel punto sarà già memorizzato qui e potrai cambiarlo da qui ok e hai due preset mentre che tu abbia un preset per parlare e uno per cantare ipotesi cioè nel microfono numero due ci aggiungi un riverbero o qualche cosa e potresti anche usarlo per quello ha dei difetti questa scheda si ne ha ne ha ne ha una serie di difetti che sono ancora da diciamo sistemare sono difetti che uno deve conoscere ad esempio potrebbe succedere che cominci ad avere dopo che hai fatto tu degli esperimenti in modo particolare se fai degli esperimenti se non la tocchi cioè la lasci così e usi i suoi preset o quelli che hai fatto tu normalmente funziona bene discretamente bene anzi fai il suo porco lavoro in un attimo il fatto di avere all'interno dei preset la possibilità di creare dei local preset ti consente di essere sempre con il culo salvo perché se per esempio ti dovesse capitare di voler far partire il riverbero e poi senti che non funziona ah ecco qua senti che io faccio il riverbero sta andando il riverbero lo senti ok perfetto che posso sceglierlo tra small medium eccetera eccetera e beh ti tocca di fare un piccolo reset sono cose che accadono anche nelle migliori famiglie fai un reset da reset all naturalmente la prima cosa che ti succede è che si resettano le cuffie l'uscita main e tutti gli effetti cioè praticamente si azzera anche la device preset come vedi quella cosa che ti dicevo prima per fortuna che c'è questa roba qui per cui tu puoi prendere per esempio mic 1 caricarlo qua sopra e poi prendere pippo caricarlo qua sopra setup 2 ok caricarlo qua sopra e vedi che c'è mic 1 pippo mic 2 eccetera a questo punto quando vai qua sopra ti dici qua c'è broadcast mi interessa broadcast no mi interessa niente da mio robot no preferisco il mic 1 che è quello che più o meno avevo fatto prima quindi il mic 1 è quello che mi interessa e me lo ritrovo di nuovo nei preset che ti facevo vedere prima vado su questo che si chiama vocal può piacermi voglio usare questo oppure preferisco usarne un altro che ho messo per esempio nel setup numero 2 che si chiama pippo allora vado a prendere pippo ecco qua questo è pippo a questo punto io ho di nuovo pippo 1 e pippo 2 cioè capito è questo che rende la scheda audio un po' particolare con 130 euro cioè hai un sacco di roba però devi andare incontro a dei compromessi tra i vari compromessi c'è l'assegnazione degli effetti che puoi mettere sul canale 1 o canale 2 quali effetti eh porca miseria non tutti perché in realtà allora se io vado sul canale 2 con gli effetti la prima cosa che noti è che qui non c'è più si finisce si ferma su limiter se io torno qui e metto assegna gli effetti al canale numero 2 e torno qui mi si aggiunge voice cioè il DSP è in grado di gestire solamente un canale alla volta il DSP degli effetti che sono più impegnativi per lui mentre per gli altri canali ancora ancora regge e si se lo metto sul canale numero 2 vediamo un po' come esce se faccio una ricerca non ci sono più gli effetti non c'è più un cazzo hai visto o da una parte o dall'altra però c'è una serie di effetti che prende ci mette un po' anche a pensarci capito questo adesso è empty questo dice che è empty ma non è empty guarda si è votato un'altra volta è il suo come dire setup 2 ok mic 2 ok io veramente sto facendo un brutto servizio a questa scheda perché sto dicendo che fa veramente insomma fa pensare mic 1 l'abbiamo già no sì certo l'abbiamo già messa mic 1 la mettiamo qui prendiamo il 3 andiamo a mettere su questo dove c'era mic 1 stereo dj mic 1 stereo dj mic 1 stereo piano stereo acoustic bass guitar electric guitar acoustic guitar vocal sono tutti gli effetti che ci sono qua sopra su questa ma se cambio e dico metti gli effetti anche sul mic 1 mi cambiano un po' di cose cioè io torno qui e mi ritrovo ad avere degli effetti differenti quelli che avevo messo prima vedi pippo empty eccetera quindi puoi usare un canale alla volta mentre questi effetti poi li potrei fare uscire anche su un canale o sull'altro vabbè ma tanto si usa un canale alla volta in questo caso non ce ne farei niente ah c'è un'altra cosa che hanno deciso di mettere che è questo questo abbinamento con OBS è interessante boh devi scaricare un plugin appena lo apri e dice entri sulla finestrina di OBS che è questa roba qui e diventa un control panel prima ti fa scaricare il plugin di OBS se il plugin funziona dico perché le versioni di OBS possono essere diverse ma diciamo da me ha funzionato e sono su Mac quindi voglio dire se il plugin funziona bene tu puoi gestire OBS da qui come vedi posso da una parte all'altra questa dettagli posso tornare qui che non so quanto abbia senso perché si ok ti serve per gestire l'audio dentro al tuo OBS ma lo facevi già da OBS non è che fosse poi così difficile farlo da lì comunque ci ha messo anche questa cosa qui ti dice se puoi stoppare studio mode fare tutta sta roba e poi hai anche le scene mix A setup ok paolo studio 1 TLM 102 default mix e poi richiamare le varie scene che vengono memorizzate all'interno della scheda audio quindi se devo dire devo dirti un altro difetto di questa scheda audio tra i vari oltre ad avere oltre ad avere questa diciamo non ancora ottimizzata gestione del software ok non ancora ottimizzata se vogliamo dire così c'è anche però che però quando funziona funziona bene come stai sentendo io fuori guarda che c'ho un cantiere qui fuori stanno facendo gli scavi stanno mettendo giù dei cavi di fibra ottica e c'è c'è dei trattori che fanno un casino del 32 quindi è abbastanza importante il rumore che ho fuori che tu non stai sentendo e quindi questo è un pregio fra i difetti io devo dire che c'è questo controllo dell'ascolto allora ci sono tre schede sovrapposte tu come fai a sapere che sono tre schede sovrapposte ad esempio io vado sul mix B metto in mute e tutta questa roba ma quando vado nello stream A non è più in mute perché lo posso vedere per esempio come l'avevo sistemato e quindi memorizza le tre posizioni per lo stream B c'è questo mixer per lo stream A c'è questo mixer per il main c'è questo mixer e io posso scegliere di spostarmi per gestire il suono all'interno di questo mixer e che questo per esempio il main sono le casse e vedere che cosa sta suonando su quel mixer oppure andarlo a sentire aggiungendo anche la cuffia perché posso spostarmi con la cuffia da una parte o dall'altra e sentirò quello che esce da quello stream ma mentre stai lavorando una cosa che ti sfugge molto facilmente è che tu pensi di stare ascoltando qualcosa o di essere su qualcosa e cominci a lavorare dici c'ho la cuffia qua sopra sto sentendo questo ti metti a lavorare qui ma sei sul main e non lo sai perché hanno tutti lo stesso colore cioè voglio dire se tu facevi una cosa per cui quando cambiavi da main passavi a stream B questo diventava azzurrino che ne so questo diventava rosso a quel punto tu sapevi di essere sullo stream giusto sulla parte giusta del mixer da gestire e invece no così non la puoi vedere cioè la vedi ma te ne devi accorgere è una cosa che invece ti sfugge molto facilmente in un mese di prove mi è capitato mille volte nonostante io sia abbastanza smaliziato su questa roba di lavorare su di aprire per esempio il canale del microfono con le casse aperte senza rendermene conto e invece volevo lavorare su stream per esempio e quello va in Larsen perché le casse ce le ho qui capito se fosse stato blu questo verde e questo giallo per esempio insomma si sarebbe capito di più su cosa si stava lavorando e invece questa cosa non l'hanno fatta quindi diciamo che è una scheda che costa poco ti consente di fare un sacco di cose però devi andare devi accettare una serie di compromessi come registra? secondo me registra bene e adesso andiamo a provarla non mi piace granché come lavora qua dentro il gate devo stare basso con gli ingressi molto basso e allora il gate funzionerà meglio ok un classico devi entrare gli basso per averlo morbido e recupero con il compressore che però non voglio usare in versione ok non voglio il fat ma voglio questo benissimo chiave di lavoro intorno ai 250 300 una cifra di questo genere peak reduction vediamo a che livello può piccare la riduzione del suono la vedi di sopra aumentiamo il gain aumentiamo il gain portiamolo dentro adesso vediamo logic come si comporta allora oggi sono anche fortunato perché fuori questa mattina alle 7 e mezza sono arrivati gli operai a stendere della fibra ottica e stanno facendo un bordello allucinante perché usano una scavatrice che sembra un'enorme sega da legno vanno a fondo nell'asfalto poi col martello pneumatico e con un altro affare pressano di nuovo la sabbia la terra nel buco dopo aver esteso la cosa quindi per strada c'è un rumore allucinante stai sentendo qualcosa? no perfetto ma è fantastico questa cosa è interessante perché perché la Universal cioè la scusa la Revelator a io 24 se è la Universal Audio dei poveri deve portarmi via tutto questo lavoro senza fare troppo bordello capito? sono un po' alto ok in teoria io sto già entrando con un bel suono pulitissimo sono in una sala isolata questo sì però i rumori che passano attraverso il cemento sono tanti quando vibra la casa o hai una sala completamente isolata proprio ma quando io qui ho il pavimento e il pavimento non l'ho staccato perché questo è un posto in campagna non c'è quasi mai nessuno tranne oggi che han deciso di fare la fibrotica va benissimo che abbiano aggiunto della fibrotica assolutamente accetto tutto ora facciamo una prova la prova la facciamo in questo senso incido un audio e poi quel breve audio lo rifarò allo stesso cercherò di farlo uguale con la universal audio e poi vediamo se effettivamente questa è la scheda la WAD dei poveri oppure no dunque io mi sono collegato questa volta con la WAD e sto usando dovrei usare vedi c'è una cosa che la WAD non ha che è per esempio il il benedetto tolte un attimo l'expander non ce l'ha nella WAD per metterci un expander devi comprarti un effetto a parte perché nei suoi interni c'è solamente eletronics non c'è expander e vabbè quindi sono altri 50 70 150 euro perché l'expander è contenuto in tre effetti che in questo momento sono che almeno io sappia all'interno di quelli della Apollo e sono l'API Vision Channel Strip l'SSL e poi ce n'è un altro che mo ti dico qual è Channel Strip e un preamp è un AMS neve dovrebbe essere questo sì esatto è questo qui che tu vedi questo è una Channel Strip della AMS neve che contiene anche un gate expander ed è l'unico sono tre praticamente però sono tutti fuori dai bundle ufficiali invece per esempio qui c'è un teletronics quello che avresti dobbiamo usare quello che ti offre la casa in questo caso è meglio che facciamo così e usiamo il legacy anche questo ce l'hai sicuramente il legacy ecco nell'Apollo a differenza del della Presonus con la roba legacy non hai per esempio la possibilità di gestire i filtri quindi devi mettere un come dire devi metterci qualcosa prima in pratica io non potrei usare assolutamente l'expander non potrei usarlo però in questo momento mi va di culo perché il cantiere è chiuso sono andati a mangiare 12 e un quarto sono andati a tavola fantastico ok non lo potrei usare perché nel bundle della Apollo non c'è abbiamo detto l'expander c'è solamente ce ne sono tre si possono comprare da parte però spendi sempre altri 150 euro alla fine quindi l'unica cosa che c'è al suo interno per esempio è il Teletronix LA2A versione legacy che ti consente di gestire un po' i livelli allora facciamo un redaction al massimo di 3 ma 3db è molto già comunque appena accennata anche in questo caso abbassiamo e portiamo il suono intorno ai meno 12 in ingresso e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima ci aggiungo un expander che è questo qui che vedi della API vision che forse è il più pulito di tutti che però ti devi comprare parte c'è un cavolo da fa ok e con l'expander non c'è più nemmeno il ronzio dei moscerini del vino sotto niente se ne va tutto ed è molto molto leggero e poi non voglio togliere tanta roba 5db sono più che sufficienti non è che ce ne sia altro a meno che non si metta a trapanare la mia casa lì fuori per metterci dentro la fibra adesso ma non credo che lo farà prima di un anno questo importa niente quindi detto questo dato che fuori è tutto silenzioso in questo momento posso farlo no cacchio sono ancora lì che trapanano aspetta che ti faccio sentire dai lo senti? te l'ho detto che oggi è una giornata fortunata per fare le prove vediamo se posso toglierlo togliamo togliamo tipo 15db andiamo in sidechain con il controllo high pass no i 30 questi qua non ti attivi non ti attivi fino a 200 hertz e anche di più qui da 250 non dovresti in teoria più sentire il rumore del martello pneumatico che c'è oggi sotto è una è una cosa così funziona in questo modo d'oggi va bene è fantastico allora questa invece è la Apollo che sto usando con la sua console che stai vedendo è quella dei ricchi che ti consente di aggiungere più cose volendo se ti compri tutto puoi mettere un sacco di roba senti che adesso però mi prendevi anche i fiati va bene deve essere appena appena accennato si sente qualcosa tu lo senti il lo sento solo io nelle ossa perché mi arriva da ma non si sente nel microfono ma è fantastico allora facciamolo se puoi pensarlo puoi farlo c'è un potere che non è nemmeno troppo nascosto in noi ma che abbiamo imparato a considerare come un difetto irreale immaginario questo senza il gate è ok per intenderci i lavori sono per oggi domani non ci sono però se puoi pensarlo puoi farlo se puoi pensarlo puoi farlo c'è un potere che non è nemmeno troppo nascosto in noi ma che abbiamo imparato a considerare come un difetto irreale immaginario c'è un potere che non è nemmeno troppo nascosto in noi ma che abbiamo imparato a considerare come un difetto irreale immaginario quindi lo perdiamo con il tempo e la logica della materialità cosa c'è di più vero di un sasso quindi lo perdiamo con il tempo e la logica della materialità cosa c'è di più vero di un sasso quando prendi un gruppo di persone e le riunisci sotto lo stesso pensiero la stessa forma pensiero quel pensiero si genera quando prendi un gruppo di persone e le riunisci sotto lo stesso pensiero la stessa forma pensiero quel pensiero si genera non si tratta di creare dal niente un worker folletto con il suo rappresentante davanti a casa ma quasi non si tratta di creare dal niente un worker folletto con il suo rappresentante davanti a casa ma beh quasi diciamo che potrebbe accadere che che quello decida di venire proprio lì una sorta di come dire attrazione magnetica diciamo che potrebbe accadere che che quello decida di venire proprio lì una sorta di attrazione magnetica allora per fare un riepilogo di quello che ti ho fatto vedere c'è una cosa che ho lasciato indietro perché la davo per scontata cioè che tu gli effetti li avresti voluti sempre sentire in realtà se non vuoi registrarli è sufficiente entrare nei settings e poi eliminare fat channel on usb stream output a quel punto li sentirei solo in cuffia non li sentirei più sul sull'uscita virtual A o virtual B che come hai visto sono corrispondenti poi nel mixer al virtual A e al virtual B quindi hai ingresso e uscite di queste schede virtuali che vengono installate lo stream A e lo stream B che sono ripeto utilizzabili solo se lavori in un certo modo cioè se sei per esempio in modalità multi nel Mac in modalità multi e così in single ti dà un'unica scheda audio che arriva fino a 96 kHz altrimenti lavori a 40400 o a 48 e ci sono ancora delle pecche nel software però vabbè voglio dire una volta che non ho capito come funziona soprattutto per il fatto perché saranno quelli che ti interessano che i settaggi sono tutti salvabili in locale cioè nei local preset per cui se anche te la reset la scheda ci metti un attimo a recuperare uno dei tuoi preset e farlo ritornare immediatamente attivo beh ci ho detto è abbastanza cioè la scheda vale tutti i soldi che costa considerando che costa come una Focusrite anche se la nuova generazione è un software aggiuntivo ma non arrivano a livello di questi in termini di completezza delle cose poi c'è una cosa che non ho controllato cioè che non ho guardato in questo video sarebbe diventato lunghissimo lo Universal Control perché in realtà tanto per cominciare in versione beta la versione cioè questa parte che si chiama Remote Access Enabled cioè Remote Access accesso remoto tu puoi intanto accedi con il tuo account che trovi sul sito della Presonus dove tra l'altro avrai anche tutti i software perché non ti ho detto che ci sono parecchi software e plug-in collegati con la tua scheda e una volta che la registri io sono riuscito a farlo anche con la scheda anche se non avevo praticamente niente perché mi hanno dato la scheda così l'ho comprata usata o comunque data indietro ma le persone evidentemente si sono tenute le licenze e tutto il resto ma quando io l'ho registrata e l'ha riconosciuta in realtà a me le licenze le ha date io sul mio account ho un sacco di software tra cui Studio One la versione piccolina che è scaricabile e poi c'è questo Universal Control che consentirebbe in teoria l'accesso universale remoto a tutte le schede audio che hai collegate non so dirti come funzioni non l'ho sperimentato e lo farò in un altro video lo Universal Control parliamo di lui lo Universal Control questo non funziona solo sulla Revelator o sulla serie Revelator funziona anche su altre schede se dai un'occhiata nel About Universal Control troverai Support Devices cioè tutti i device che sono supportati all'interno di questa scheda ora se tanto mi da tanto e le altre schede hanno quello che ha questa scheda cioè ti possono dare schede audio virtuali il controllo remoto il mixer il loopback e tutto quanto il resto è accidenti la cosa si fa interessante perché se ti faccio vedere per esempio questa scheda audio qui della Presonus è la 1824 ha un sacco di ingressi e di uscite e fra le altre cose ha il il word clock ha l'adat lo speedif e tutte le uscite e poi microfoni in quantità quindi in teoria tu potresti farti un super studio molto ben gestito con questo sistema sempre ammesso che ma direi che sarà quello che stanno facendo che sistemino un pochettino la questione del software che ogni tanto almeno su questa scheda impazzisce potrebbe essere un problema della mia scheda questo mi domando cioè se ne prendo un'altra e questa la do indietro e ne prendo una nuova si pianta il software oppure è un problema del software per Mac non te lo so dire questo a me come esperienza dato che ogni tanto impazzisce e devo andare qui sopra e fare un reset facendo un reset la scheda si rimette quasi completamente a posto di solito si si mette a posto cresce tutto io lo faccio ripartire prendo i miei preset che avevo salvato perché io precedentemente avevo fortunatamente salvato in local e il reset non cancella le sue memorie interne le mie memorie Silvio Pellico non lo so hai capito c'è questa cosa qui però per il resto considerando quanto costa non quanto l'ho pagata io ma quanto costa nuova questa scheda li vale assolutamente tutti i suoi soldini ti consente di avere un ottimo feedback in cuffia un ottimo audio registrato perché la qualità audio che registra è assolutamente di altissimo livello l'ho messa come hai sentito di fianco a una Apollo X8 e non sfigura c'è il gate allora bisogna dire una cosa di questi di questi software sono software non esattamente super superbi nel senso che fanno quello che possono fare ma lo fanno già piuttosto bene non è che sono di altissima gamma il gate per esempio stamattina mentre facevo le prove con il cantiere aperto ogni tanto non riuscivo a gestirlo bene mentre il gate dell'Apollo mi dava assolutamente quello che doveva darmi cioè non sentivi un filo di rumore che venisse che non fossi io con i miei respiri e la mia voce mentre con questo il rumore tendeva con questo gate a entrare ogni tanto e quindi faceva dei piccoli click si sente nella prima parte del test che ho fatto proprio alla fine della prima frase si sente un piccolo rumorino che è dato da questa cosa però la mia era una situazione estrema hai visto dai filmati che c'erano delle macchine piuttosto pesanti proprio nella strada a 10 metri davanti a me e io sono al pian terreno e vibrava veramente vibrava il pavimento dove ero non è una cosa comune cioè non succede tutti i giorni di solito si sta in ambienti più silenziosi quindi la cosa funziona va bene spero che ti sia insomma che ti sia stato utile questo video ce n'è un altro che ha fatto Francesco te l'ho detto all'inizio l'ho visto mentre stavo finendo di preparare questo io questa qui l'ho comprata il 17 di agosto e mi è arrivata il 20 e dal 20 ho cominciato a provarla lui è stato molto rapido e probabilmente ha già detto che farà delle prove su richiesta io questa cosa non la farò prove su richiesta c'è questo video basta poi la userò per altre cose se andate sul canale di Riperiani trovate tanto per cominciare la prima prova che ha fatto poi se stai guardando questo video nel tempo nel futuro può darsi che ne abbia fatte anche delle altre va bene è stato bellissimo ciao e grazie per aver guardato questo video fino a qui allora il difetto di cui ti parlavo o ti ho parlato no è lo stesso c'è un difetto non hanno messo il mute quando si accende quindi quando si accende sembra una 500 mi metto il il thunderbolt la scheda audio si accende ed eccola devo dirti una cosa se per caso la accendi con le casse accese e nel preset hai lasciato il microfono aperto nella scheda principale quella che va alle casse avrai un bellissimo alzano a Grazie a tutti.